elettricista tra le antenne in cielo piccoli lavoretti e valvole da cambiare tra i tanti lavoretti che la mia mamma mi trovò uno era in un negozio di elettricista il proprietario vendeva televisori figurine lavastoviglie cucine e nel retro aveva allestito un laboratorio dove si riparavano soprattutto i televisori che a quell'epoca andavano a valvole a valvolone uno dei motivi per i quali smettevano di funzionare i televisori era che le valvole si scaricavano quindi erano da controllare una ad una in quel caso il mio capo mi diceva riccardino guarda se c'è qualche valvola scarica quindi prima di cominciare mi legavo un fazzoletto sul naso perché i televisori erano pieni di polvere di dentro come se le valvole attirassero la polvere prima svitavo il telaio all'esterno poi con un pennellino cominciamo a togliere un po di polvere sempre tenendo il fazzoletto sul naso poi levavo la prima valvola ci soffiamo sopra e la provamo nella come si chiama un prova valvole era un aggeggio che forse avevano inventato loro provavo le valvole una una finché non trovavo la valvola scarica andavo dal capo che mi dava la valvola nuova ed ecco riparato il televisore avevo beh avevo già già più di quattordici anni avevo quattordici anni e mezzo cominciamo a invecchiare sembrava perché quando riparavo un televisore mi dicevo madonna che figo che sono il capo mi faceva aggiustare di tutto perlomeno io ci provavo ma per me il vero divertimento era quando mi portava con sé a installare le antenne sui detti in quel caso bisognava essere in tre due stavano sul tetto ed uno di sotto davanti al televisore prima cosa si facevano i buchi per fissare il tubo di ferro porta antenna cioè c'erano delle non so come si chiama delle cose che fissavamo nel muro e poi che avevano dei buchetti che con le viti si stringevano insomma si facevano i buchi col gesso che asciugava subito poi bisognava collegarci il cavo e buttarlo di sotto dal tetto si buttava il cavo di sotto dal tetto fino a raggiungere la finestra poi uno teneva in mano l'antenna l'altro penzolava il cavo si attaccava dietro il televisore io mi penzolavo dal tetto e l'altro tirava avanti spostava il televisore e l'altro diceva gira la gira che non c'è il segnale gira ferma ferma torna indietro questo era tutto questo al sesto settimo piano all'inizio c'era solo un canale il cavo era uno poi sarebbero diventati due cavi insomma uno stava sempre davanti al televisore e l'altro stava a muove l'antenna mi ricordo che mi divertivo tanto quando passava qualcuno che conoscevo la mia mamma mi chiamava mamma mamma e la mia mamma si guardava intorno ma a me non c'era qua e su lei diceva si faceva il segno nella croce mi diceva nini stai attento vabbè a volte qualche signora anziana ci chiamava perché non andava più un lampadario una presa di un frigorifero se stava vicino andavo gli a piedi e riusciva a riparare le piccole cose perché in realtà ero già grande stavo per compiere 15 anni l'elettricista il messiere dell'elettricista è stato sicuramente il lavoro più bello e formativo dopo la musica